Ciao ragazzi, siamo Renzi e Paolo, come vi avevamo promesso facciamo un video dalla Sardegna, un bellissimo canarama. Bentornati su Ignacio Channel, c'è il nostro yacht laggiù, guardate, eccolo laggiù, noi siamo appena scesi dal nostro yacht, un po' lontano, non è vero. E va niente, ho appena fatto il bagnetto, guardate, facciamo vedere il mare, fantastico, questa è soltanto una delle spiagge che abbiamo visitato, che sta proprio vicino alla nostra casa. E niente, faremo un po' di vlog, diciamo, perché è bello fare i vlog quando si è in vacanza lo fanno un casino dei youtubers. Guardate che bel mare, bellissimo, guardate la Sardegna. Faccio un vlog mentre faccio un tuffo, se vuoi, non faccio bagnare. Va bene, chiudiamo allora con un tuffo, dai. Vai, allora faccio vedere io, lo tengo, provo a tenerlo? No, no, lo filmo io. Vai. Vai zio. Urlo per Ignacio. Ziu. Ignacio! E' andato. Ciao Ignacio Ani. Eccoci ragazzi, siamo verso le 7 di sera, stiamo facendo un aperitivino. La giornata passata fa un mare fantastico, abbiamo fatto un casino di bagno anche io con un fratello. La spiaggia è bellissima, guardate, si è affollata un botto, mamma mia, tantissime persone, tantissimi ragazzini, mamma mia. La giornata è fantastica. Niente, domani cosa facciamo? Domani in che spiaggia andiamo? Domani siamo a casa, domani andiamo a... Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, 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 buongiorno. E' molto contento, Leoprapello è molto contento di questa esperienza. Perché non mi vedo? Ecco, adesso non mi vedo. Niente, ci vediamo domani, oppure stasera faremo magari un vlog quando siamo fuori, ma non ve lo garantisco. Ci vediamo probabilmente domani. Ciao ragazzi, questo è il nostro terzo giorno di vacanza, cioè il terzo giorno in cui vloggiamo, quinto giorno di vacanza. Siamo nella nostra spiaggetta vicino casa, ecco qua, guardate che bella. Qua intanto c'è mio padre. Ciao Agna Siani, bentornati su Innesio Channel. Qua c'è mio fratello. Andre saluta. Ciao. Ciao. Adesso faremo un po' di cammino, guardate che pelle che ci sono. Questo è il mare. Mi arrampico sugli scogli, adesso scivolo. Non sono spericolato, non sono spericolato. Ci stiamo divertendo molto perché la Sardegna è un paesaggio fantastico. Ciao ragazzi, adesso siamo a... Siamo a Budoni. Ciao Agna Siani, bentornati su Innesio Channel. Siamo a delle bancarelle, stiamo facendo un giro delle bancarelle, fratelli Innesiani. Adesso siamo in un negozio, siamo in una bancarella di maglietta e vediamo se troviamo la maglia di Ignacio. Ma non c'è la maglia di Ignacio. Con in 47 gol che ha fatto. C'è la maglia di Pavoletti, non c'è la maglia di Ignacio. Adesso protesto, eh. Ma la maglia di Riva. Il mio fratello si è affezionato. Cioè c'è la maglietta di Riva e non c'è la maglietta di Ignacio. Spiegatemi, eh. Non ho capito. Non c'è proprio niente dell'Udinese. Cioè non c'è proprio niente dell'Udinese. Manco Mandragora, manco Musso. Ho visto oggi su Instagram che Musso e Ignacio sono molto amici. Sì, sono argentini, argentinani. Ha scritto anche Ermano. Ha scritto anche Ermano. La mano era per lui. E niente raga, adesso vi faremo vedere quanto è bella la Sardegna, la Sardegna. La Sardegna. Sardegna, Sardegna. La Sardegna. Dai, salutiamo i nostri amici. Eh, salutiamo i nostri amici un minuto. Domani, diretta da un'altra spiaggia bellissima, formento di Isuletta. Fortnight, fortnight, fortnight. Si vede all'incontraio. Dai, domani vediamo. Ciao Ignaciani, che sono questi blog sono troppo lunghi, non ce la faccio a montarli. Bella. Ciao. Ciao a tutti Ignaciani, a saluto. Ciao ragazzi, siamo nel secondo, nel terzo giorno di vacanza, il secondo giorno che registriamo e stiamo per andare ad un'altra spiaggia in Ignaciani belle. Adesso prendiamo la nostra mitica macchina. Intanto papà, cioè qua papà che non saluta, perché ha dei carichi pesanti. Saluta papà. Ciao Ignaciani. Adesso andiamo in questa bellissima spiaggia che poi vi faremo vedere nel prossimo vlog, incolleremo i video e faremo un video fantastico. che titoleremo il primo vlog in vacanza di Ignacio Channel. e niente, questa è la nostra bellissima macchina. Ci vediamo dopo ragazzi. Ci vediamo dopo per farvi vedere la nostra fantastica spiaggia in cui andremo. a dopo, ciao. Ciao ragazzi, questo è un altro giorno, siamo... ecco il poveriggio, stiamo per uscire per andare al mare. Stiamo... ragazzi stiamo pensando di fare una canzone parodia, giustamente perché non possiamo fare canzoni nostre. Facciamo una parodia di DJ Yax, Ostia Lido. abbiamo già preparato da fare canzoni. Ragazzi, cioè, non è che... io non scrivo male, però adesso ho voglia di scrivere male, perché... questi sono i nostri appunti, guardate quanto ho scritto male qui. La facciamo sentire ai nostri fan. No, solo in un terreno. No spoiler. Ho la testa tagliata. Ho la testa tagliata.